Tentata rapina da Far West in una nota agenzia di viaggi alle porte dell'Aquila sulla Statale 80. Al momento della rapina erano presenti nell'esercizio commerciale i due titolari che sono madre e figlio. Intorno alle 19.30 si sono visti entrare in agenzia tre banditi. Secondo quanto riferito dai due uno parlava perfettamente l'italiano senza inflessioni, uno imboccava un fucile. Immediata la reazione del titolare che colpito dal fucile è rimasto anche ferito su un braccio. I malviventi hanno scavalcato il bancone nel tentativo di portare via sia il bancomat che la cassa ma alla fine hanno desistito dall'impresa e sono fuggiti via. Il fucile è stato ritrovato scarico dagli agenti della squadra mobile che si sono recati prontamente sul posto in agenzia accompagnati anche dalla scientifica per i rilievi del caso. I giubbetti utilizzati per questo colpo fallito invece la polizia li ha ritrovati poco distanti nei pressi dell'hotel Amiternum. Una tentata rapina che fa riflettere sulla condizione dell'Aquila che dopo il sisma ha visto crescere in maniera esponenziale episodi di delinquenza.